Questa è la spiegazione del gioco del sogno del clown colorato praticamente abbiamo un foglio di carta fatto in questo modo lo prendiamo e lo inseriamo all'interno di questo foglio di carta che fa parte della colmicità come lo mettiamo all'interno noi vediamo che appare solamente la parte in bianco e nero mentre la parte colorata va così dietro lo mettiamo così all'interno, chiudiamo, tutto chiuso, sigillato si prende e si chiude in questo modo facciamo vedere il clown, il clown tutto quanto in bianco e nero ci facciamo aiutare dai nostri amici spettatori a lanciare i colori addosso alla carta perfetto, a questo punto scriviamo la carta istantaneamente il nostro clown si trasformerà a colori lo facciamo vedere avanti e piedi, lo apriamo e vediamo che davvero non c'è nessun tipo di trucco tutto quanto esamiabile perché il nostro clown colorato si è verniciato per pura magia questa è la spiegazione del gioco del sogno del clown colorato è vero